Benvenuti a Cavagnolo, siamo sul Monferrato Torinese, la frontiera settentrionale del nostro patrimonio UNESCO. Non solo, a Cavagnolo siamo anche di fronte al Parco del Po perché qui scorre il grande fiume e siamo all'interno del Mab UNESCO Collina Po. Quali altre bellezze abbiamo in Cavagnolo, abbiamo di fronte Villa Martini, una delle più belle ville Liberty in Piemonte, appartenuta al commendatore Alessandro Martini, quello del Vermut. E poi abbiamo l'Abbazia di Santa Fede, la bomboniera del Romanico in Piemonte, un'abbazia dei 1100 meravigliosa che vi invito a scoprire. Ma certamente vi invito a scoprire il nostro bellissimo comune, un paese dinamico e vivo che certamente saprà accogliervi con le proprie specialità anche enogastronomiche e poi nella serata di Monferaton Stage che ospiteremo in quest'estate qui a Cavagnolo. Siamo contenti, rientrerà anche all'interno della nostra rassegna Confluence. Grazie per la vostra partecipazione e attenzione, vi aspettiamo presto a Cavagnolo.